E' stata una campagna acquisti abbastanza impegnativa. Abbiamo fatto 21 operazioni in entrata, 7 operazioni in uscita definitive, 5 prestiti per quanto riguarda la prima squadra, 10 del settore giornalile e ringrazio Mauro Melotti che mi ha aiutato per queste. Sono ragazzi che sono andati a giocare in Serie D e li seguiremo con attenzione. No, pressione no. Noi sappiamo perché siamo venuti qua. Il nostro obiettivo, quello che ha detto il Presidente, è cercare di togliersi da questo pantano il minor tempo possibile. Noi abbiamo un arco temporale di due anni per provare ad andare in Serie B. Non abbiamo obblighi. Noi non abbiamo obblighi di vincere il campionato. Noi vogliamo provare a vincere il campionato che è diverso. Credo che l'obbligo ce l'abbiano altre società che magari l'anno scorso la Serie B la facevano, anche per gli organici che si portano dietro per gli investimenti fatti. Noi non ci nascondiamo, però sappiamo che è un campionato complicato. Ne abbiamo avuto la prova a Pesaro, la riprova a Domenica Grossetto. È un campionato dove bisogna andare comunque a sudarsi ogni punto, fare battaglia in ogni campo. Nessuno ti regala niente. Ci sono buone compagini perché anche squadre cosiddette di seconda fascia, secondo me, hanno allestito compagini importanti. Quindi sarà sicuramente un campionato bello, ma con tante difficoltà. L'idea Tremolada è nata quando Gavazzi ci ha comunicato che non se la sentiva di andare avanti. Per cui in quel momento noi abbiamo pensato proprio in un ragionamento di costruzione della squadra, che è stata fatta formando comunque coppie in ogni ruolo, che Mostri aveva bisogno di un compagno che lo affiancasse. Abbiamo iniziato a capire sul mercato quello che si poteva muovere. Obiettivamente non c'era tantissimo che ci convinceva perché volevamo prendere un giocatore di livello che ci alzasse ancora di più la qualità della rosa, perché questa è una rosa importante. Tremolada fino a tre o quattro giorni alla fine del mercato non prendeva in considerazione la serie C. Aveva qualche trattativa con squadre di serie B. Appena ha dato apertura ci siamo messi sotto. Abbiamo cercato di lavorare in silenzio, nell'ombra, per non farla venire allo scoperto. Il ragazzo è venuto volentieri, era l'unica serie C che prendeva in considerazione. Nonostante l'avessero cercato anche diverse società anche di questo girone, ci ha fatto piacere che abbia scelto noi.